buongiorno e benvenuti in questa nuova video diretta io sono simone sarò il moderatore per questa live oggi andremo in casa cantiere del pardo e saliremo a bordo di un gran solei 45 non sarò da solo ci sarà ad aiutarmi anche il nostro collega ivan che direttamente da sopra l'imbarcazione ci descriverà tutto ciò che riguarda questa barca tra l'altro io lo vedo già operativo lo farei entrare all'ingresso di questa live per mostrare farci mostrare l'imbarcazione eccoci qua attendiamo per un istante il collegamento eccoci qua ivan buongiorno 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 guarda sono ho preferito venire direttamente in video con te non ho ancora fatto un'anticipazione la farò mentre ci fai vedere al volo un controcampo di quello che l'imbarcazione che ne pensi cominciate a immaginarla già vedendola qua dietro di me esattamente ora giro l'inquadratura e ve la mostro subito tra l'altro fortunatamente oggi in quel di caurle è arrivato un po di sole ed è sparito il ghiaccio di questa mattina assolutamente prima di andar via ricordo che siamo saliremo a bordo di un gran solei 45 del 2004 un motore da 55 cavalli yanmar altro che dire andiamola a vedere io ivan lascio la scena solo per te ok volentieri eccoci qua siamo a bordo appunto adesso saliremo a bordo di questo gran solei 45 progetto judo il vrolick una linea molto sportiva anche se un concetto internamente ancora classico e con degli interni e con degli interni molto lussuosi questa barca si presenta come potete già vedere da da qui con scafo bianco molto pulita tuga abbastanza bassa e pulita un ampio pozzetto non c'è tech sul ponte quindi poca manutenzione ma c'è un elegante tech nel pozzetto che ancora in buone condizioni cominciamo a vedere su questi progetti la poppa che si che si raddrizza un po rispetto ai precedenti che erano molto più allungate molto più più comode e in discesa al mare in questo caso invece abbiamo una poppa dritta con un'apertura a poppa per per appunto avere questo accesso al mare questo cosa da dona più spazio all'interno del pozzetto certo lo rende sicuramente molto più abitabile molto più abitabile il pozzetto perché siamo ancora nella tradizionale soluzione con grande ruota del timone singola e quindi molta sensibilità per le manovre a vela come potete vedere abbiamo anche un bomo molto lungo questa barca è una barca di un cantiere rinomato che costruisce barche sempre costruito barche solide sportive nella conduzione sportiva per salire a bordo abbiamo una passarella in acciaio inox pieghevole un carabottino in legno molto solida e comoda e adesso saliamo a bordo ecco questa è la spiaggetta di poppa che è ribaltabile e apribile con due gradini che permette di scendere a mano cioè lei ce l'hai spiegato praticamente in bilico sulla passarella fantastico sulla passarella esatto ecco in questo caso il tec lo vedete un po' scuro perché purtroppo è dicembre e hanno chiuso l'acqua e non abbiamo potuto far lavare la barca perché qui al nord est ghiaccia spesso però il tec come vi ho detto è in buone condizioni basta una lavata e è ancora presentabile molto molto buono assolutamente diciamo che l'intenditore comprenderà assolutamente certamente certamente qui come possiamo vedere abbiamo due gavoni molto grandi sotto le panche del pozzetto e ne abbiamo altri due qua dietro in questo qua in particolare abbiamo anche l'alloggiamento delle bombole del gas randa contrasto completamente arretrato per non infastidire i camminamenti nel pozzetto abbiamo in questo caso è una versione la facevano questa barca con sei o quattro winch questa è la versione con quattro winch molto più semplice da gestire molti meno inciampi nei passaggi nei camminamenti verso tua ben distribuiti direi come vi dicevo una tuga ora dire pulita purtroppo non è non è pulita dalle manovre e con queste due bocche di lupo per prendere aria per prendere aria all'interno della barca l'albero è uno sparcraft a tre ordini di crocette sul quale è montato anche un radar e come potete vedere là in cima anche un'antenna tv direi super maestoso sì sì è una barca come ho detto prima sportiva dalla conduzione sportiva e con un'ottima navigabilità solida e sicura e avanti abbiamo ovviamente il musone dell'ancora con un'ancora discreta delta in acciaio dal peso ponderato per questa barca è una grande catena con pozzo con pozzo catena molto spazioso anche per poter stivare parabordi e o eventualmente un genna che era una vela o comunque zero una vela da natura di poppa ottimo direi anche ottimo a scomparsi in maniera tale da lasciarlo super camminabile anche la parte della della pruba sì sì io mi sto muovendo liberamente lungo tutta la barca il sartiamo è leggermente accentrato quindi permette il passaggio anche in questa zona come sempre su queste misure è comodo avere la vita a mezza barca per gli orneggi e l'inglese e diciamo che ha tutto quello che si può pensare di avere su una barca di queste dimensioni devo dire che il pozzetto è veramente molto interessante sì il pozzetto è veramente molto comodo diciamo che su queste sedute possono mettendoci due cuscinerie diventano comodamente due comodi prendisole per gli ospiti mentre il timoniere se ne sta nella sua zona qua a poppa zona poppa molto comoda anche perché abbiamo la leva del motore qui a portata di mano il quadro di comandi del motore sempre qua a portata di mano qui possiamo vedere il comando dell'elica di prua retrattile che è una delle dotazioni di questa barca è una quick molto potente e a scomparsa che così non crea freni nella navigazione a vela un rimando dei comandi dell'ancora qui dietro e sempre in questa zona abbiamo un secondo GPS ce n'è uno interno e poi qui ne abbiamo un secondo anch'esso con bussola integrata e cartografia integrata questo è molto utile nel caso dovesse succedere qualcosa a uno dei due strumenti l'altro funziona ancora e siamo in grado di tornare a casa evitando pericoli certo soprattutto tutto ha portata appunto di armatore nel senso che avendo tutto in quella condizione lì non si ha mai la perità di vista di tutti quelli che sono i dati necessari per la navigazione direi fondamentali esattamente questa è la vista che avrebbe l'armatore in navigazione basta uno sguardo in alto per vedere le vele e uno prua o al GPS per vedere dove stiamo andando molto comodo un'altra comodità è il classico tambuccio della Grand Soleil a ghigliottina doppia che scompare e rimane alloggiato in quella posizione senza dover trovargli una soluzione diversa a dover alloggiarlo qui sulla Tuga abbiamo quattro ripetitori delle informazioni degli strumenti di bordo vento, profondità, velocità eccetera e tutta la batteria degli stopper con i due winch sulla Tuga ricordiamo che tutto il materiale e tutte le dotazioni di bordo in coperta sono della Arken e quindi materiali di più super qualità super qualità, sì vi accompagno all'interno vai, fateci vedere come potete vedere già si intravede l'eleganza di questa barca i legni molto solidi, un colore oscuro, elegante, una cucina veramente spaziosa una di net con due divani molto comodi e spaziosi, confortevoli e la zona carteggio, anch'essa di generose dimensioni qui abbiamo tutta la strumentazione di bordo tutti i comandi, i consensi degli strumenti a 12 volt mentre da questo lato la parte a 220 ora spengo questo strumento perché continua a suonare un allarme come vedete qui sono riportate oltre alla cartografia tutti gli altri strumenti si vede un po' in sovralluminazione ma ok così si vede molto meglio lo spengo perché continua a suonare un allarme non vi so dire che cos'è quindi non ho tempo di indagare beh diciamo che per far tranquillizzare i clienti verrà disattivata prima del vostro acquisto probabilmente è un allarme forse di profondità o altro quello che è tarato per una condizione da radar qui invece siamo sempre fermi nello stesso punto certo sarà anche la bassa marea in questo momento vediamo il comando del labor spacker riscaldamento a gasolio ad aria produce aria calda e VHF VHF di Bordo ottimo un'altra delle dotazioni appunto era il riscaldamento a bordo che è un plus mica da niente che è un plus mica da poco soprattutto su una barca con queste grandezze vi dirò che io questa mattina sono arrivato c'era il ghiaccio in coperta e accendere un po' di riscaldamento all'interno mi ha fatto solo che bene prima testimonianza eccola qua direttamente da Ivan passaggi molto liberi ma se ci serve un tavolo ecco che alziamo le due ali laterali e viene un tavolo veramente veramente grande ora ho una mano impegnata quindi ve lo faccio vedere una parte alla volta alcune soluzioni avevano questo tavolo rigido mentre in questa versione abbiamo anche questa ala abbattibile perché a questo punto c'è una panca estraibile per trasformare questo in un altro letto matrimoniale quindi una dinette super trasformabile direi quindi dinette trasformabile diventa veramente un enorme letto anche questo quindi la barca non ve l'ho detto ma è in configurazione tre cabine due bagni ma questa può essere considerata un ulteriore letto matrimoniale come vedete l'eleganza del cantiere italiano l'eleganza italiana si può notare in tutta la barca veramente un accostamento di legni e pelle nel soffitto molto equilibrato e col pavimento a doghe a righe bianche longitudinali è sempre molto apprezzato assolutamente e vorrei ricordare appunto che l'imbarcazione è del 2004 di conseguenza trovare degli interni che rimangono comunque attuali è veramente un grandissimo plus per un'imbarcazione di questo tipo nel senso avere un'imbarcazione che nonostante tutti questi anni sia ancora molto attuale sia con le linee che con l'arredo ecco non è una cosa che si può trovare su tutte le barche quindi nota di merito direi nota di merito veramente zona cucina molto spaziosa con anche questa con questa aggiunta che la trasforma in una cucina a C anziché ad L un grande frigorifero a pozzetto e in più abbiamo un secondo frigorifero della Isoterm in questa posizione molto comodo anche questo diciamo che il secondo frigor è un bel occhio anche questo è scomparsa esatto due comodi lavelli con un altro vano per le spugne o gocciolatoio o quant'altro forno e fornello due fuochi a gas e la cucina comunque ha anche tanti stipetti tanti spazi di stivaggio cassetti e anche soprattutto in questa zona dei cassetti molto profondi sia sopra sia sotto e direi anche ben distribuiti su tutto quello che è la parte la parte cucina sì sì esattamente una delle due cabine di poppa molto spaziosa letto matrimoniale e una comoda seduta che comunque non toglie spazio allo spazio di camminamento all'interno della cabina veramente la cabina è molto molto comoda anche l'armadio è spazioso l'altezza in questa zona c'è e ci sono anche uno due tre oblò privili che la rendono molto luminosa tra l'altro molto luminosa e questi tre oblò permettono di far girare tanta aria qui all'interno abbiamo una curiosità il boiler in questa posizione tutti i pesi della barca sono distribuiti molto bene su questa barca al centro il boiler al centro qua abbiamo la cassa del gasolio e qua sotto abbiamo l'ispezione del motore tutto ben servito molto comodo tutto quanto con degli sportelli semplicemente apribili con un pulsante ce n'è uno anche là in fondo che dà accesso alla zona timoneria ai frenelli della timoneria che devo dire per dei controlli o quant'altro è molto comodo dall'altro lato abbiamo una cabina gemella come potete vedere in tutte le cabine in tutte le cabine abbiamo l'arrivo del riscaldamento qua c'è una borsina che come potete vedere ci sono dentro dei fari nuovi di navigazione probabilmente verranno sostituiti quindi le luci di navigazione nuove ok questa è la seconda cabina ovviamente siamo sotto natale abbiamo anche giusto il grinch e da questo lato come abbiamo detto di là ci sono delle ispezioni al vano centrale dove sono distribuiti si può accedere anche da questa parte ottimo esatto qui sulla destra abbiamo un primo bagno entrambi i bagni hanno bucci elettrico molto comodo questo grande specchio e comunque il lavello incassato su questo bordo di legno e questa lavorazione veramente anche 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 dei bagni insomma hanno curato ogni ogni minimo dettaglio diciamo che non poteva essere lasciato nulla al caso con un con una linea di questo tipo qua quindi non mi stupisco che in questo caso il cantiere del pardo abbia abbia lavorato su tutti i dettagli presenti sulla barca quindi esattamente esattamente sono un cantiere artigianale che lavorava e lavora ancora tutt'oggi è un signor cantiere che costruisce barche di alto livello entriamo nella cabina di prua dove abbiamo il grande letto matrimoniale con il testa letto da quel da quel lato delle comode stedute laterali tanto spazio in cabina su questa su tutto il bordo e anche sul testa letto abbiamo delle mensole il grande armadio il grande armadio all'ingresso il famoso specchio per le signore a tutta altezza che non disdegnano mai a me piace sempre trovare questo particolare perché veramente veramente è un un'aggiunta che di stile che accontenta le signore insomma riuscire a vedersi a tutta altezza non è posso dirti in maniera sincera Ivan spegnarsi tutti interi su una barca non è che spaccia proprio male anche a un maschietto anzi certo certo bagno di prua con un box doccia grandissimo questa doppia porta ovviamente si sposta poi in questa posizione e quello diventa tutto un box doccia molto grande è comodo anche qua anche sull'altro lato ovviamente abbiamo delle sedute comode qua sotto abbiamo dei gavoni molto grandi un cassetto che si può vedere da qua sotto l'alloggiamento dell'elica di prua con le proprie batterie dedicate diciamo che sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista stilistico è una barca ben equilibrata e centrata con tante con tante soluzioni interessanti studiata nel 2004 poi devo dire con tante soluzioni ancora attuali certo e non è facile soprattutto trovare su imbarcazioni di quegli anni lì situazioni in cui si possono avere un po' tutte le condizioni del mare da quello che è la parte un po' più sportiva da quella che è la parte un po' più croceristica ecco questa imbarcazione ha e racchiude nella sua linea un po' tutte le condizioni quindi rende ancora di più attuale e versatile se così possiamo definirlo a completare quello che stiamo dicendo della barca qui abbiamo come vi ho detto prima i due accessi d'aria delle maniche a vento sulla coperta tutti gli oblock comunque ancora in buone condizioni i plexiglass sono hanno delle tendine che li coprono e anche questi laterali hanno delle tende che arrivano fino qua dietro e soprattutto anche i laterali sia da un lato sia dall'altro sopra il carteggio in bagno sono apribili quindi anche anche in net abbiamo tanta possibilità di far girare tanta aria e non soffrire il caldo l'estate la tv un altro elemento aggiuntivo che non si rifiuta mai ovviamente sotto questi gavoni sotto queste scusa divani abbiamo dei gavoni molto molto spaziosi in tutto tutta la parte dei divani anche là dietro di cui si vede l'apertura quindi ulteriore stivaggio di qualsiasi genere esatto come ho detto piano di carteggio molto grande e anche qui zona di stivaggio per tutti gli accessori che possono servire diciamo che sulle barche zone di stivaggio non sono mai troppe certo beh questo cantrocampo mi piace parecchio dà veramente l'idea delle dimensioni e degli spazi che ha questa barca vi mostro vi mostro un altro degli accessi quello classico sottoscala del nostro motore Yamaha 55 cavalli che comunque si presenta in ottimo in ottime condizioni non vedo ruggine sui piedini non vedo ruggine su ovunque praticamente la barca è un quattro Yamaha 55 cavalli e distribuzione Sail Drive per gli amanti e ricercatori del Sail Drive esatto cos'altro cos'altro dire direi che abbiamo visto un po' tutto se c'è qualche domanda o volete rivedere qualcosa all'esterno vi accompagno volentieri ma sì io direi di ripare un controcampo nel pozzetto in maniera tale da far rivedere quello che è lo spazio del pozzetto poi se hai modo di piazzarti un attimo faccio un recap insieme a te eccoci qua eccoci qua questo è il nostro enorme pozzetto ruota del timone e comunque quando la spiaggetta è chiusa se volete ve la apro così vi faccio vedere il passaggio altrimenti comunque quando la spiaggetta è chiusa la barca è molto è molto sicura adesso vi accompagno un attimo qui ve la apro così vi faccio vedere anche la discesa io nel frattempo ricordo ricordo appunto a tutti che abbiamo appena visto un gran solei 45 anno 2004 monta un motore da 55 cavalli Yanmar con un layout abbiamo visto super abbondante di tre cabine e due bagni con la dinette appunto trasformabile due wc elettrici abbiamo detto Raymarine gps elica di prua insomma parecchi accessori che rendono l'imbarcazione super confortevole ma dinamica come abbiamo detto prima con tutti quelli che sono gli aspetti della navigazione da l'armatore che vuole qualcosina di un po' più energico da appastare invece dall'armatore che vuole qualcosa di un po' più tranquillo e di conseguenza la barca regge tranquillamente anche la parte della navigazione crociera esatto questo controcampo ci dà l'ulteriore idea di quello che è la spiaggetta esatto la spiaggetta aperta con una bella scala solida per risalire dai bagni a mare assolutamente qui ci sono i tubolari dei tendalini che ovviamente c'è un Bimini adesso è stato rimosso perché non si rovini durante l'inverno e questo è il controcampo della nostra barca dalla linea veramente veramente bella e sportiva sull'acqua a me piace molto questa barca sì 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 direi che anche con questo questo porto così piatto la rende ancora più più elegante questo riflesso poi devo dire che anche il sole grazie ancora di più quello che è l'immagine della barca certo certo il sole non ce n'è mai abbastanza bene Ivan se ti fai una una ripresa selfie faccio siamo quasi ormai giudici di taludi esatto eccoci qua ricordo a tutti appunto e mi riprendo anch'io la scena ricordo appunto a tutti che Ivan sarà colui che vi porterà a bordo di questa imbarcazione sarà pronto a rispondere a tutte le vostre domande non esitate quindi a scriverci al nostro indirizzo mail info chiocciola abaiottin.com o direttamente trovare l'imbarcazione con tutte le specifiche tecniche foto elaborate appunto dal nostro Ivan sul nostro sito abaiottin.com Ivan io per il momento ti ringrazio ti farei il mio saluto e lavorerò presso le richieste per questa barca e le mando tutti da te volentieri che non facciano i grinch perché questa barca è pronta a essere consegnata anche per Natale anche per Natale che non faccio lo dico lo scrivo nella mail non fate i grinch questa barca va anche per Natale è veramente una barca è veramente una bella barca devo dire che comoda spaziosa elegante sportiva tutto in un'unica barca fantastico ci piace il tuo entusiasmo Ivan io per il momento ti saluto grazie ancora a presto un abbraccione grazie a voi ciao eccoci qua ricordo a tutti appunto che tutte le imbarcazioni che vedrete compresa quella che abbiamo appena visto sono tutte con incarica in esclusiva da parte appunto di Abaiottin e potete trovare tutte le informazioni necessarie sul nostro sito che ripeto www.abaiottin.com siamo quindi arrivati al termine io vi saluto e vi auguro una buona giornata a presto ciao ciao